Siamo in diretta Buongiorno a tutti voi Allora cominciamo dal santo Oggi è una santa polacca Sperando che il cartello No, è Santa Maria Vabbè, Santa Margherita Maria la Cocca Va bene, io ero concentrato su un'altra santa Ma va bene lo stesso Allora, il sole sorgerà alle 7 e 26 E tramuterà alle 18 e 27 Vediamo adesso il tempo Per la cronaca la santa su cui ero concentrato Era il santo Edvige Ma comunque Il cielo sarà oggi inizialmente sereno O poco nuvoloso Con graduale aumento della copertura Nel corso del mattino A partire dai settori settentrionali Nuvoloso o molto nuvoloso Al pomeriggio Con attenuazione della nuvolosità Verso sera o durante la notte Dalla tarda mattinata Avremo rovesci inizialmente locali Più probabili lungo la costa centro-settentrionale In intensificazione e diffusione A gran parte della regione Dalle ore centrali della giornata Fenomeni in esaurimento Dal tardo pomeriggio o sera Andiamo a vedere la giornata di domani Il tempo andrà via via migliorando Sabato sarà, vedete, senza precipitazioni Così come la giornata di domenica Poi la prossima settimana Sarà una settimana caratterizzata dal bel tempo E sarà anche una settimana soleggiata Il virus, come sempre in primo piano Questa escalation dei contagi Ma c'è anche la nuova giunta Varata da Francesco Acquaroli Giunta composta da sei assessori Tre dei quali sono esponenti Rappresentanti del nostro territorio E come vedremo tra poco Anche in particolare della città di Fano Allora, il virus però non risparmia Valentino Rossi Questo è il titolo d'apertura Del Carlino di Pesero di oggi Positivo il campione di Tadavuglia Sono arrabbiato, dice lui Salta la gara di Argon Contagiata anche la Pellegrini La nuotatrice Il selfie che Francesco Acquaroli Ha fatto con la sua giunta Ecco la giunta a trazione fanese Acquaroli ufficializza La squadra competente, forte e autorevole Come dicevo, trazione fanese Perché c'è Carloni, c'è Aguzzi, c'è Baldelli E di Pergola Però insomma siamo lì Mai vista una regione così Il Presidente dice Inizieremo subito dalle misure anti-Covid E a proposito di Covid La difesa degli anziani Le case di riposo si blindano Primi limiti alle visite E poi regole ignorate La città che gioca con il virus A Montecalvo in foglia Soldi sottratti alla madre Gli confiscano la casa Ma sempre di spalla Qua a sinistra vedete Il Sindaco di Fano Massimo Seri Che scrive un intervento E dice In 30 anni mai avuto niente dal centro-sinistra Massimo Seri che fa le congratulazioni Ai nuovi assessori regionali Con particolare soddisfazione Per la grande rappresentanza Della provincia di Piesa e Rubino Complimenti a Mirko Carloni Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli Che riusciranno a rappresentare Al meglio tutta la nostra zona Sono altrettanto sicuro Scrive ancora il Sindaco di Fano Seri Che riusciremo a collaborare Con un obiettivo comune Il bene di Fano E di tutto il territorio circostante È un'occasione storica Per questo territorio Sempre bistrattato Anzi stupisce che in 30 anni Tra parentesi L'ultimo e unico assessore fanese È stato Alberto Iacucci Nel 1994-95 Il centro-sinistra Non sia riuscito mai Ad esprimere un assessore Di Fano E adesso passiamo da nulla O comunque da uno Ma siamo nel lontano 94-95 Nel secolo scorso Verrebbe da dire Da uno a due Barra tre Se ci mettiamo anche Baldelli Siamo sicuri che non si offenderà Elezioni studentesche Solo il 5% a Urbino Si presenta E poi pubblico e deroghe La VL paga pegno L'astronave deserta Il basket dei controsensi Andiamo a vedere il Corriere Adriatico Sempre l'edizione di Pesero Titolo d'apertura Covid positivo Anche Valentino La città tra i territori più colpiti Ricci Destinanti ai pesaresi Scuole, trasporti e sicurezza In quattro mosse Rossi Io positivo Sono triste e arrabbiato Indice di contagio in salita La R. Conti è salito Siamo a uno e passa Ma scendono i ricoveri Negli ospedali A centro pagina La fotografia Con la giunta al debutto Con le novità E la novità sicuramente È la figura del sottosegretario O un sottosegretario Che ancora non è stato nominato Ma il Corriere Adriatico Anticipa il nome Dovrebbe essere Bacci Sotto a guatto a donna Per il suo Rolex Condanna a sette anni Sottrasse i soldi All'anziana madre Confiscata la casa E poi a fano Il riscatto della città Coro per gli assessori Ora il cambiamento Andiamo a vedere subito La situazione del Covid Nella nostra regione E allora Ne approfittiamo Per partire Dall'articolo Del Corriere Adriatico Scritto questa mattina Da Lorenzo Sconocchini L'onda d'autunno Fa salire l'R1 E14 Avete visto Insomma eravamo sempre Sotto A 0,90 E qualche cosa Adesso È salito sopra A l'1 Ricoverati però Sono in calo Ieri 140 casi Indice di contagio In salita Ma i malati in ospedale Scendono da 72 A 70 Rispetto però A marzo Quindi a sette mesi fa L'impatto sanitario È ridotto Infatti sette mesi fa Avevamo 168 morti In una settimana In due settimane Si è passati Da 8.000 A oltre 9.000 Positivi In questo momento Nelle Marche I marchigiani I marchigiani Che sono costretti In isolamento Sono 7.000 Ma l'impatto Come dicevamo Sui servizi sanitari Di questa seconda ondata Continua ad essere Decisamente più ridotto Rispetto alla fase 1 Ieri I ricoverati Per Covid Nelle Marche Sono scesi Di due unità Da 72 a 70 Anche se è salito Da 8 a 9 Quello dei pazienti In terapia intensiva Se non ricordo male Tre sono a Pesero Poi altri Sei dislocati Tre e tre In due strutture In due strutture Poi si fanno i confronti In questo momento Si fanno i confronti Tra quello che è La situazione atroale E quella che è appunto Quella di 7 mesi fa Che è molto diversa Anche se parliamo Di numeri in crescita Ma è negli ospedali Che ancora qui Nelle Marche Le cose stanno andando bene Ma so che Si stanno preparando Stanno preparando Formando anche il personale Infermieri Pronti tutti quanti Per riattivare Le terapie intensive Ma speriamo Che non ce ne sia bisogno Intanto il titolo Del resto del carlino Di Pesero Ancora nelle pagine interne Contagi nelle Marche Continua la crescita E le case di riposo Iniziano a blindarsi Questo è ciò Che doveva succedere Sette mesi fa Poi è successo Tutto molto in ritardo Ma eravamo Completamente impreparati Circolare Dell'area vasta 1 Che limita l'ingresso Dei visitatori Appunto nelle case di riposo Si parla di azione preventiva Ma c'è già Chi evita del tutto Gli incontri Cioè le famiglie E i familiari Non possono entrare Nelle case di riposo Per esempio A Famiglia Nova Scrive Simona Spagnoli Sul giornale Questa mattina Famiglia Nova Di Fano Già duramente colpita Dal virus A Fano Che ha fatto 15 vittime Dice Come Ascop Abbiamo disposto La chiusura momentanea Della struttura Tutti gli ingressi Dei visitatori Familiari esterni Fino a nuova comunicazione Intanto il coordinatore Della cooperativa Francesco Alessandroni Dice Ristruttureremo Quanto prima Il calendario Delle videochiamate Per dare a tutti La possibilità Di essere aggiornati Sullo stato di salute Degli ospiti Casa Aura Invece Fa in questo incontro Con le famiglie Più attenzione Ai rapporti Con l'esterno Intanto per i pesaresi C'è la notizia Buona notizia Che è in arrivo Un milione di euro A giorni Ci sono anche Verranno comunicati I criteri Per partecipare Al bando Perché il comune In primis Il sindaco Matteo Ricci Ha deciso Che questi soldi Questo milione di euro Andrà totalmente A beneficio Dei cittadini Sono soldi Che il governo Ha destinato Ai comuni Delle zone rosse Comuni Tra i più colpiti E tra questi C'è anche Pesaro E sono soldi Come dicevo Che andranno Che l'amministrazione Comunale Ha deciso Di destinare Interamente Alla cittadinanza Il comune di Pesaro Ha un bilancio In ordine Nonostante tutto Ha detto Ricci Nei prossimi giorni Comunicheremo i criteri Le modalità Per partecipare A questo bando Intanto Anche Sulle pagine Dei giornali Questa mattina Leggerete anche Di due personaggi Sportivi Del mondo Dello sport Famosi Famosissimi Uno Delle nostre parti L'altro ha avuto A che fare Con il nostro territorio Parliamo di Valentino Rossi Di Tavuglia E Federica Pellegrini Che in qualche modo Quando stava con Filippo Magnini Conosce E ha vissuto Ha conosciuto Il nostro territorio Sono due personaggi Che in questo momento Sono risultati positivi Al Covid-19 Il virus Non risparma Gli idee Adesso qui Sui titoli Sulle definizioni Queste cose Lasciamo stare Però insomma Pellegrini E Rossi positivi Ho pianto tanto Dice Lei In un video Mentre si dice Triste E arrabbiato Il pilota Idea Lorenzo Per sostituirlo Ad Aragon 2 Federica Pellegrini Che ha 32 anni Ha annunciato La sua positività Al virus Su Instagram Si sarebbe dovuta Presentare in vasca Budapest Lunedì L'olimpione Che aveva già espresso Tutta la sua delusione Durante il lockdown Per il rinvio Delle Olimpiadi Di Tokyo 2020 Poi però Come vedete Ce ne sono tanti Nel mondo dello sport Nella pallavolo Nel tennis E sotto C'è Valentino Rossi In questa fotografia Valentino invece Ne ha 41 di anni E dovrà saltare Appunto Il gran premio Di Aragon Domenica prossima Sperando di recuperare Invece per il bis Della prossima settimana Altra tegola Per il dottore In un'annata Già complicata Con tre cadute Negli ultimi tre Gran premi E per Per quanto riguarda invece Il drive test Di strada dei cacciatori Siamo sempre A Pesaro Ci siamo L'obiettivo è Fare 150 tamponi Almeno al giorno È in fase di ultimazione L'allestimento Della struttura Oggi un sopralluogo Dell'area vasta Si pensa di partire Già dalla prossima settimana Che cosa aspettiamo A chiudere le scuole Invece titola Il Carlino di Fano Parla Il professor Paolo Clini Docente di storia Dell'architettura All'università Il nodo vero è L'intreccio Istruzione Trasporti Questo è un problema Che tra l'altro Preoccupa Non poco Anche Anche i genitori I genitori Di tutti quei ragazzi Che al mattino Partono A volte anche Di buon'ora Proprio perché Gli orari Sono un po' Tutti sballati Rispetto ai tempi Normali E salgono su questi Autobus Dove spesso Purtroppo E lo vediamo anche Sul giornale Questa mattina Purtroppo Non vengono sempre Mantenute le distanze E quant'altro Quindi Ami Per esempio Sta pensando In quattro mosse Di modificare Un po' La situazione Genitori Che dicevo Sono sempre più preoccupati Per il trasporto scolastico La commissione partecipata Convoca Ami E chiede Il massimo impegno La società dei trasporti Mette in campo Quattro azioni Vediamo quali sono Queste quattro azioni Conta persone Negli autobus Per evitare di superare La capienza Dell'80% Poi più mezzi Per le corse Degli studenti Tutti i controllori Impegnati Per vigilare Sul rispetto Delle misure anti-covid E poi più poteri Al conducente Che può far scendere Dall'autobus Chi non indossa La mascherina Ora È vero che ci può anche essere Quello che si dimentica E non lo fa per cattiveria Cioè È chiaro che Uno può Dimenticarsela E quindi a un certo punto Non è che può tornare a casa A riprendersela Può sperare Che qualcuno Gliela presti Insomma Però È chiaro che Andare in un autobus O in un mezzo pubblico Senza mascherina Significa Volersi male Ecco Questo Però può capitare E quindi Il conducente Adesso avrà Soprattutto negli autobus Ami La possibilità Di non far salire Le persone appunto Che non hanno La mascherina Presidente Radelli Dice La società Si è mossa Tempestivamente L'incontro Fissato dopo Le preoccupazioni Sollevate Dai genitori Torniamo un attimo Però indietro Perché ho saltato Una pagina Che è questa Per evitare la calca I vigili Controlleranno Gli alunni Siamo sul Corriere Adriatico Presidi Alle fermate Del campus Ma anche Al Santa Marta E al Cechi Sono Gli istituti Scolastici Pesaresi Intanto i genitori Segnalano Delle criticità Per i bimbi Al plesso Don Milani Siamo a Villa San Martino Vedete come anche I genitori Segnalano Vivono con Preoccupazione La situazione Anche scolastica Per esempio A Senigallia Questa mattina Sul Carlino C'è la notizia Che due classi Sono ancora Sono in quarantena Dopo i casi Di positività Una studentessa Della scuola media Mercantini E una maestra Delle scuole Per l'infanzia Nel plesso Di Senigallia Centro La legionella Addirittura invece In un hotel A Senigallia Invece Lutto Per la morte Del fornaio Mariano Tarsi Quindi due comunità In lutto Per la scomparsa Di questo storico Fornaio Di Passoripi Aveva 85 anni Tarsi che aveva Dedicato la sua vita Al lavoro E alla famiglia Era molto conosciuto Anche a Ostra Mentre Tutta forte E autorevole Sarà La differenza La differenza di genere Di una rappresentanza Dovete sentire Questi nomi Sottosegretario Per quanto riguarda Il governo Per quanto riguarda Roma Ma non Nelle regioni Eppure Adesso Ce l'avremo Anche la regione Marche avrà questa figura Del sottosegretario E il suo nome E il suo nome Perlomeno Quello che sta circolando E quello Dell'assessore Della giunta Quello che si Che è appunto Bacci Massimo Bacci Che potrebbe essere Potrebbe avere Un ruolo Del tutto nuovo Per le marche Quello appunto Di sottosegretario regionale O alla presidenza Della giunta Regionale Si tratta di una figura Ancora da istituire Nelle marche Quindi bisognerà Penso Cambiare lo statuto Qualcosa del genere Ma già presente In alcune regioni Ispirata al sottosegretario Di Stato Alla presidenza Del consiglio Nominato dal presidente Della giunta regionale Con modalità analoghe Agli assessori Il sottosegretario Coaduva Il governatore Nello svolgimento Delle sue funzioni Anche con deleghe Per determinate materie E partecipa Alle sedute Di giunta regionale Avremo modo Di conoscere Questa Comunque questa figura Anche il Corriere Titola Un sottosegretario Alla presidenza Il vero big Di acquaroli Deve arrivare Il governatore Ufficializza la squadra E annuncia Questa nuova figura Che ha come ipotesi Appunto Quella di Bacci La pagina Del Corriere Adriatico Di Fano Invece Scritta questa mattina Da Lorenzo Furlani È sulla rappresentanza Forte Dei fanesi In regione E insomma Rappresentanza Importante Nella stanza Cosiddetta Dei bottoni Da Cenerentola A Regina Fano governa La regione Insomma Bel titolo questo Fano governa Alla regione Vedremo Perché poi c'è anche Quello strano E brutto effetto Che poi scatta Nelle persone Che vivono E che hanno Questi compiti Per non dare L'impressione Di avvantaggiare Il proprio territorio Poi magari Lo snobbano E quindi Abbiamo l'effetto Contrario Però Adesso ancora Devono essere Messe alla prova Quindi vedremo L'importante È che lavorino bene Poi Ognuno Avrà la sua parte Ognuno Avrà quello che Quello che merita Quindi non importa Se sono di Fano O non di Fano L'importante è che facciano bene Il loro lavoro I nomi Ve li abbiamo detti E straridetti Ma comunque Sono Carloni Baldelli E Aguzzi Sono Tutti e tre A rappresentare Appunto Questi tre assessori Il nostro territorio Tre su sei Tra l'altro È la terza città Delle Marche Cioè Fano Mai così rappresentata Sanità, infrastrutture E servizi pubblici locali In vista Un ribaltamento Delle politiche Sui temi cruciali Ha versato Il ruolo egemone Svolto dal PD Di Pesaro E qui c'è Tutto l'articolo Che troverete E che potrete leggere Sul giornale Pagina Sempre di Fano Del Corriere Di Attico Di questa mattina L'intervento Del sindaco Massimo Seri La città Penalizzata Dal centro-sinistra Ora Un riequilibrio Paolo Andreani Industriale Di Saltara Dice C'è stato C'è stata la firma La nomina Ieri Di Barbara Brunori Per darle La delega A Sport E Ambiente Quindi Barbara Brunori Da ieri È il nuovo Assessore Del comune di Fano Della giunta Seri E sostituisce La dimissionaria Caterina Del Bianco Che Ha già detto Lei Ha dovuto lasciare Per motivi personali Per motivi di lavoro Il timone dell'economia Siamo sul resto del Carlino A Carloni Un nuovo modello marchigiano Lui dice Vicepresidenza E assessorati pesanti Alleghista Più votato Mettiamo insieme I talenti della regione Lavorerò contro La burocrazia E a favore Del credito Per le imprese Ecco La strategia E c'è l'intervista A Carloni Di Roberto Fiaccarini Niente parità di genere Giuste le azioni legali Scrive Sempre sul Resto del Carlino E' un'azione Del partito democratico Che dice Non c'è parità di genere Dunque sono giuste Le azioni legali Contro Contro la giunta Perché Solo una donna In giunta Insomma Suscita Sgomento E sconforto A me Genera più sgomento E sconforto Pensare che Le donne debbano Entrare per forza Perché lo scrive la legge Cioè Sinceramente Preferirei che Le donne entrassero Così come per gli uomini Per merito E non perché ci devono essere Ma questo E' un altro discorso Punti di vista Aguzzi Io meglio degli ambientalisti Ma questo vale anche per le donne Sapere di essere stata Di essere Lì in giunta Solo Adesso non faccio riferimento Alla latina per carità Ma In generale Essere lì Perché ci devo stare Perché è un po' come Lasciamo stare Anche per le donne Non è che sia Il massimo della vita Baldelli Strade e aree interne Ecco le priorità Assessore viabilità Ai lavori pubblici Mentre Aguzzi Sarà l'assessore O Green Cioè Si dedicherà agli ambientalisti E dice Io meglio degli ambientalisti Da salotto Baiocchi invece subentra Rappresenterò Pesaro In maggioranza Chiaramente Entra al posto di Baldelli Ed entra in consiglio regionale Baiocchi Che ha sfidato Matteo Ricci Alle scorse amministrative a Pesaro Intanto la pagina di Fano Del resto del Carlino Brunori Ai blocchi di partenza È un sogno Dice lei È il nuovo sessore allo sport All'ambiente e al decoro urbano Alla partecipazione E le opportunità Per le nuove generazioni Grazie a chi Nei momenti difficili Mi ha sostenuta Con un effetto rigenerante Intanto il Covid non ferma Il Fano Film Festival 1.500 lavori selezionati E provenienti Da ogni parte del mondo La cronaca Tampona l'auto Alle strisce Ferma alle strisce pedonali Grave un motociclista Resta ferito pure il figlio Nuovo incidente Sulla Flaminia Rosciano Già teatro di un incidente mortale Paura e rabbia Dei residenti Siamo vicino Alla chiesa vecchia Di Rosciano di Fano Per chi è del posto Sa di cosa stiamo parlando Vedete lo scuterone Finito a terra Proprio a ridosso Degli esercizi commerciali Qui c'è un negozio Di caccia E di pesca In quel tratto Sono stati posti I limiti dei 30 Il divieto di sosta Ma non vengono rispettati Non solo Ma vanno Come si dice Come il vento Cioè In quel tratto di strada Dove veramente Bisognerebbe rallentare Perché tra l'altro C'è un restringimento Dove c'è la vecchia chiesa Di Rosciano Ebbene lì Io non so perché La gente Al posto di schiacciare il freno Pigia l'acceleratore Ed è una cosa Che andrebbe studiata Su un letto Psichiatrico Fermando tutti quelli Che vanno A velocità Esagerata Comunque Via Ferriano Una Parigi Dakar Formato mini Invece è l'altra pagina Di Fano del resto del Carlino Un residente Dice Esasperato In quel punto Le auto devono lasciare La strada Passare per il campo E quindi rimettersi Nella carreggiata Mentre Marta Ruggeri Invita a tracciare subito I positivi Per evitare Nuovi Focolari Marta Ruggeri Che lo ricordiamo Parla adesso Da consigliera regionale Del Movimento 5 Stelle Prosciugò il conto Della madre malata Le fiamme gialle Però si sono accorti Di qualcosa che non andava E gli confiscano la casa Monte Calvo in foglia L'uomo Non aveva nemmeno pagato La retta della struttura sanitaria In cui la donna Si trovava E dunque Aveva fatto sparire Qualcosa come 27 27 mila euro Intanto All'ospedale Marche Nord Memè Nominato Primario Il dottore 49 anni Era già Facente Funzione Dunque Luca Memè 49 anni Già direttore Facente Funzione Del reparto Già Guidato Da Pierangelo De Simoni Adesso È ufficialmente Il nuovo Primario Il Tar Siamo sul Corriere Adriatico Il Tar Accoglie Il ricorso Di Papalini L'appalto De Veleni Torna Alla Suam Parliamo Di una Maxigara Per le pulizie Negli ospedali Regionali Una maxigara Da 180 milioni Per 8 anni Che però È ancora Sotto Inchiesta Urbino Elezioni All'Ateneo Solo Il 5% È andato Alle urne Eletti I rappresentanti Per il CDA La lista Era unica Felici Che sia passato Il quorum Necessario Intanto Oggi Sempre ad Urbino Il sigillo Al ministro Lamorgese Una cerimonia Solo per 120 persone Dalle 11.30 Urbino Nell'aula magna Del polo Paolo Volponi Durante No Siamo da pecchio Invece Questa è la fotografia Qua sotto Ecco Una grande festa Per il 25esimo Di Nonsauro Porfini Per fare la cerimonia In totale sicurezza Si è allestito tutto Nel palazzetto dello sport Parole di amore Per la chiesa E poi lo sport Con Fano Al Mancini Aperto Soltanto per 300 tifosi Tanti potranno assistere In curva Alla partita di domenica Alle ore 15 Contro Limolese Per la tribuna Disponibili invece Solo pochi biglietti Virtus Verona Fila l'arma Contro la Vis L'attaccante Che in estate Era stata la prima scelta Di Crespini Ha segnato domenica scorsa I primi gol in Veneto Domani anticipo Alle ore 15 VL L'assurdità Dell'astronave deserta Ancora una volta Entrano solo 200 tifosi Altre regioni In deroga Con mille spettatori Molto più sicuro Di tanti altri posti Della città E con questo Fermiamo qui La nostra Rassegna stampa L'informazione Torna questa sera Su Fano TV Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Ma vi ricordo Che i nostri social E il nostro portale Occhio alla notizia Punto it È sempre puntualmente Aggiornato Dalla nostra redazione Quindi fateci un salto Occhio alla notizia Punto it Grazie per averci seguito E buona giornata a tutti Grazie per aver guardato